Con i colori originali dell'antico Egitto, è stata scoperta nella necropoli di Saqqara, a sud del Cairo, una sessantina di sarcofaghi, i cui intersi e sfumature sono pressoché intatti. Un miracolo della qualità manifatturiera di una civiltà scomparsa. Le crisali di funerarie sono di ben 2500 anni fa. La maggior parte dei sarcofaghi sono ben protetti e mantengono le tinte d'origine. Sono bari di sacerdoti e di altri dignitari appartenenti al periodo tardo, circa il 600 a.C. Ho partecipato all'apertura di un ADS con il professor Mustafa nella cavità. È come se il processo di mummificazione sia stato completato ieri. La complessità dei toni del colore, dei disegni e dei geroglifici rende questi pezzi estremamente delicati. Per questo motivo verranno trasferiti con tutte le cure al Grand Egyptian Museum, la cui inaugurazione avverrà nel 2021, a causa del ritardo dovuto alla pandemia. Nella zona potrebbero celarsi altri tesori.